Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano sembra essere giunta al termine, nonostante nessuno dei diretti interessati abbia confermato ufficialmente la notizia. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, la relazione tra la showgirl e l'ingegnere è arrivata al capolinea. Le foto pubblicate dal settimanale Key, in Edicola Oggi, mostrano i due durante un'ultima cena chiarificatrice che non ha portato alla riconciliazione. I volti tesi dell'ex coppia parlano chiaro, una cena poco divertente in un ristorante e poi un taxi che li riporta a casa, con Belen che scende davanti al suo nuovo appartamento senza voltarsi indietro. Mentre sembra essere stata scritta la parola fine su questa love story, Belen ha ritrovato serenità nel rapporto con Stefano De Martino. I due ex coniugi resteranno uniti per sempre dall'amore per il figlio Santiago. E recentemente il ballerino è stato molto vicino alla showgirl, aiutandola nel trasloco e accompagnandola ad un impegno di lavoro. Belen dice addio ad Angelo, ma sa di poter contare su Stefano come una spalla su cui appoggiarsi. Le nuove foto pubblicate su Key confermano la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano. Dopo giorni di attesa, i due si sono incontrati per una cena finale, in cui probabilmente hanno chiarito le reciproche posizioni. Le immagini li ritraggono in un ristorante con volti cupi e nessun sorriso, per poi rientrare a casa separatamente. Un appuntamento che non aveva nulla di romantico, ma che ha segnato la definitiva chiusura della storia. Nonostante un'altra storia d'amore finita male per Belen Rodriguez, la showgirl può contare sull'appoggio di Stefano De Martino. Il ballerino è sempre presente nella sua vita e in quella del figlio Santiago. dimostraendo apporto tutti i vei e in Henry. Grazie a tutti.